L'esempio più bello di come nella vita non sia mai troppo tardi e di quanto siano importanti l'istruzione e la continua formazione arriva da Città di Castello con la storia di Imelda Starnini. Nata nel 1933, a 90 anni compiuti, la signora Tifernate ha deciso di rimettersi a studiare per realizzare il sogno della vita, prendere il diploma di maturità e diventare maestra, almeno sulla carta. E così Imelda si è presentata puntuale all'Istituto San Francesco di Sales per svolgere la prima prova scritta d'italiano. Ho scelto quello della maturità, sì, perché la maturità è una bella cosa, mi piace sempre su tutte le cose. A me mi piace tutto, l'ho scritto la scuola, tutto quanto. Io anche a casa schifo sempre, volentarsi. Io sono stata volentieri, sulla scuola ci sto molto bene, ci passo bene il mio tempo perché vedo i figlioli che studiano, che imparano. E allora mi viene sempre degli studiati, imparati, perché da grandi fa bene sapere, si ricorda bene quello che abbiamo imparato. E poi si può trasmettere anche agli altri quello che abbiamo imparato noi, no? E insomma io faccio così, scrivo sempre, la paga la tavola. Ad attendere la signora Starnini all'uscita, la figlia Sara Mercatelli, una vera e propria mascotta dell'esame di maturità a livello nazionale, per il messaggio positivo che trasmette, come sottolineato anche dal presidente di Scienze Umani Michele Baldassarri e dalla presidente di Scienze Economiche e Sociali Morena Passeri. Per noi è una forte emozione, diciamo è stata una sorpresa perché l'ho scoperto pochi giorni fa che c'era questa candidata, insomma di una certa importanza, perché la possiamo definire una certa importanza. Credo che sia un esempio mirabile per i ragazzi d'oggi con cui lei sta facendo l'esame gomito a gomito perché abbiamo trovato, per come l'abbiamo osservata stamattina, una grossa dignità, una grossa anche preparazione nell'affrontare gli argomenti del tema e credo che questo sia appunto un esempio per i ragazzi di oggigiorno che non indifferente. Io ho conosciuto personalmente la candidata, le ho fatto i miei più sinceri complimenti perché sono veramente ammirata e dico che al di là di un esempio importante per i giovani di oggi, realizza quello che l'Unione Europea ci chiede, la formazione lungo tutto l'arco della vita, lifelong learning ci dice di realizzare la comunità europea e lei ne è un esempio di recupero di una persona adulta che ha appunto recuperato con tenacia, con volontà, quello che probabilmente la vita prima non era riuscita a darle. E sono veramente contenta di poter assistere a questo momento, a Città di Castello, è la prima volta che vengo in commissione qui, ma veramente un'accoglienza splendida.